bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata il caso di oggi amici sarà molto interessante e come accennato anche molto molto lungo penso il più lungo che io abbia mai fatto e so che la maggior parte di voi sarà felice di questo oggi parleremo di una setta veramente spaventosa ovvero nexium la setta in cui era coinvolta anche elison mack la star di smallville alcuni di voi avranno sentito parlare di questa storia proprio per questo motivo e infatti ho visto che alcuni di voi mi hanno richiesto questo caso usando il modulo che trovate come sempre in descrizione sotto ai video ma questa storia bizzarra oggi non ve la racconterò solo io infatti ho avuto l'onore e il piacere di chiacchierare con una donna incredibile una donna che è stata in nexium per ben sette anni e che alla fine è riuscita ad uscirne e che ad oggi diffonde consapevolezza affinché quello che è successo a lei non succeda anche a qualcun altro e questa persona speciale è niente meno che india oxenberg che forse alcuni di voi conosceranno come la figlia della famosissima attrice katherine oxenberg star di dynasty india è stata così gentile da accettare di fare una videochiamata insieme a me non la chiamerò un'intervista perché io non sono una giornalista quindi diciamo che si è trattato di una appunto una chiacchierata di cui inserirò dei clip nel corso del video chiaramente sarà in inglese ma inserirò anzi il caro edo inserirà tutti i sottotitoli così che possiate capire tutto senza problemi pensate che all'inizio mi ero detta ma sì dai tratto questo caso che è un po più leggero degli altri sapete che a volte mi piace alleggerire il canale diciamo così ma dopo un po che facevo le ricerche ho detto ok no questo video sarà molto più pesante di alcuni video già fatti altro che alleggerire sarà così pesante che non sono sicura che youtube me lo farà monetizzare che novità ma a noi non ce ne frega niente della monetizzazione di youtube perché a supportare il canale anche oggi abbiamo uno sponsor grazie al mio amatissimo surf shark vpn chi mi segue da tempo sa già che surf shark è il mio migliore amico durante tutte le ricerche che faccio per i miei video e vi assicuro che per la storia di nexium non sarei riuscita a trovare la maggior parte delle informazioni se non avessi usato un vpn ma fatemi spiegare meglio per chi non lo sapesse un vpn sarebbe una rete privata virtuale che tra le cose ti consente di accedere a qualsiasi contenuto online cercando spesso su website americani non avete idea di quanti siti io trovi bloccati tantissimi siti di notizie americani infatti non sono accessibili per chi si trova in europa oppure sarà capitato anche a voi di voler guardare un contenuto online magari un video che però non era disponibile nel vostro paese ecco in tutti questi casi basta cambiare il paese nel vostro vpn mettere che ne so america germania quello che volete e voilà avete tutti i contenuti del paese che avete inserito a vostra disposizione ma un vpn soprattutto ti protegge perché nasconde la tua navigazione nasconde il tuo indirizzo ip protegge la tua identità online protegge i tuoi dati soprattutto quando si usano wifi pubblici che sono molto pericolosi e navigare in sicurezza vi costerà veramente pochissimo amici perché utilizzando il mio codice elisa avrete non solo l'83 per cento di sconto ma anche ben quattro mesi gratuiti per provarlo come sempre trovate il link qua sotto in descrizione prego non c'è di che dunque amici voglio fare un piccolo disclaimer perché come vi accennavo sarà un caso piuttosto pesante che tocca argomenti che potrebbero essere un trigger per alcuni di voi quindi voglio dirvelo prima in questo video andremo a parlare di violenza sulle donne ma anche sui minori ne parleremo in modo un po disturbante non so come altro definirlo poi parleremo anche di disordini alimentari quindi se siete particolarmente sensibili a questi argomenti fate una gentilezza verso voi stessi e chiudete questo video adesso io tornerò come sempre ogni lunedì quindi non preoccupatevi oggi amici vi parlo di una delle più terrificanti sette mai esistite secondo me conosciuta come Nexium vi parlerò del suo fondatore e anche di come la famosa attrice Alison Mack si è passata dall'interpretare uno dei ruoli principali della nota serie tv Smallville al reclutare donne per questa setta col fine di torturarle renderle schiave e spingersi persino fino a marchiarle a fuoco dunque iniziamo vi chiedo di stare molto attenti durante questo video perché mi rendo conto che a tratti sarà un po confusionale perché spiegare le dinamiche di queste sette non è semplice e per evitare che arrivino commenti in cui si colpevolizzano o si sminuiscono le vittime dicendo cose tipo ma che idioti ma a me non sarebbe mai potuto capitare insomma cose così sento di dovervi spiegare tutto bene come funziona in cosa credevano queste persone quando si sono unite a quella che poi si è rivelata una setta insomma voglio approfondire molti aspetti quindi farò del mio meglio per essere il più chiara possibile iniziamo col parlare dell'uomo che ha creato tutto questo gran casino il fondatore di Nexium mister kit ranieri kit nasce il 26 agosto del 1960 dai genitori james e vera che erano james un dirigente pubblicitario e vera un'istruttrice di ballo una maestra di ballo e qua andando avanti bisogna fare una distinzione tra le cose che kit dice di se stesso e la verità dunque kit sostiene di essere stato un bambino prodigio che sapeva parlare ben tre lingue inglese francese e tedesco prima ancora di aver imparato a leggere sapeva inoltre parlare tranquillamente la sua lingua all'età di un anno sapeva scrivere all'età di due anni quindi presumibilmente se sai scrivere sai leggere di conseguenza stando a quello che dice lui sapeva parlare tre lingue prima dei due anni ok e oltre tutto ciò all'età di 12 anni sapeva suonare il pianoforte a livelli altissimi successivamente essendo il genio che era aveva iniziato l'università all'età di soli 16 anni e aveva preso tre lauree con dei voti ovviamente stellari ma non è finita qui kit diceva anche di essere l'uomo più intelligente del mondo letteralmente amici diceva di essere entrato nel libro del guinness dei primati per per questo con un quoziente intellettivo di 240 e contate che un normale quoziente intellettivo si aggira intorno ai 90 100 quindi capite che 240 è ben sopra la media ma la verità amici è che da piccolo non parlava tutte queste lingue all'età di due anni le sue doti da pianista sono nella media ci sono svariati video in cui si suona il pianoforte discretamente ma ogni tanto sbaglia a suonare non prende le note all'università era stato sospeso diverse volte e aveva concluso con un ponteggio bassissimo di soli 2.26 che sarebbe a malapena una c quindi ottenendo a malapena la sufficienza e riguardo il suo quoziente intellettivo viene fuori successivamente che effettivamente era comparso sul libro del guinness dei primati non si sa come perché il test del quoziente intellettivo che aveva fatto non è un test riconosciuto e in più è un test che fai a casa tua senza supervisione quindi una roba un po campata per aria e probabilmente il guinness dei primati si è resa conto di questa cosa infatti il nome di kit ranieri è comparso esclusivamente in una sola edizione del libro e oltretutto solo nella versione australiana negli anni 80 kit inizia a lavorare per un'azienda mlm che sta per multi level marketing e ho dovuto chiedere a voi su instagram di aiutarmi a capire la differenza tra mlm e schema piramidale perché onestamente la differenza è veramente sottile e io non riuscivo a capirla ma ora penso di esserci riuscita correggetemi se sbaglio la struttura è praticamente la stessa ovvero a piramide anche se alle persone che lavorano nell mlm nell mlm ok non piace che si definiscano piramidi però è così nel senso che ci sono persone ai vertici che a loro volta reclutano altri venditori sotto di loro che a loro volta reclutano altre persone e così via quindi letteralmente è una piramide ma la differenza tra uno schema piramidale anche detto schema ponzi è la seguente le mlm multi level marketing sono legali e sarebbero aziende come avon erbalife e sono legali perché vendono dei prodotti dei beni fisici quindi le persone all'interno guadagnano in base alla vendita di prodotti nello schema piramidale invece il guadagno si basa sul reclutamento delle persone e basta quindi io recluto qualcuno sotto di me che se a sua volta recluta qualcun altro fa guadagnare me e così via e questo è illegale comunque io ve l'ho proprio appena accennato so che ci sarebbero tante altre cose da approfondire quindi se siete interessati all'argomento vi lascio in descrizione un video di miss crimi crimi che lo spiega molto molto bene io appunto non mi dilungherò sull'argomento perché con il caso di oggi c'entra e non c'entra ed è già abbastanza lungo così comunque kit ranieri inizia a lavorare per la mlm amway che alcuni di voi conosceranno in quanto esiste anche in italia e probabilmente si pronuncia amway non lo so comunque questo questa mlm vende diversi prodotti integratori creme profumi e così via all'interno di amway kit riesce a creare proprio il suo seguito di persone che pendeva dalle sue labbra un suo ex collega ricorda di essere rimasto sorpreso dall'influenza che kit riusciva ad avere sulle persone sotto di lui infatti presto kit prende tutto quello che aveva imparato da amway e nel 1990 fonda la sua mlm che chiama consumers byline questa mlm funzionava praticamente come amway ma come vi ho detto la linea tra mlm schema piramidale è molto sottile infatti kit l'aveva tranquillamente varcata questa linea in questa azienda comunque kit conosce una donna di nome tony natalie che diventa molto velocemente una delle migliori venditrici dell'azienda tony al tempo era sposata con un altro uomo ma rimane ammaliata da kit racconta il suo primissimo incontro con lui che è stato il momento in cui ne è rimasta rapita racconta che all'inizio era molto scettica ed è stato in realtà suo marito a convincerla dicendo le cose tipo dobbiamo lavorare con quest'uomo sai kit è l'uomo più intelligente del mondo ha un quotiente intellettivo di 240 bla 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 allora tony aveva accettato di andarci a parlare kit l'aveva fatta accomodare sul divano del suo ufficio e subito aveva sentito che tony puzzasse di fumo allora le aveva chiesto per caso fumi vorresti smettere di fumare io posso aiutarti tony gli aveva detto sì vorrei smettere di fumare ma ci ho provato in tutti i modi e non sono mai riuscita racconta che allora kit le aveva fatto pressione su alcuni punti delle sue mani e le aveva detto di toccare questi punti ogni volta che le sarebbe venuta voglia di fumare durante questo incontro con kit il marito di tony la stava aspettando fuori nel parcheggio perché doveva essere un incontro veloce tony racconta che era successa una cosa molto strana perché quando aveva terminato la sua chiacchierata con kit era uscita ed era andata da suo marito che l'aspettava e che piuttosto infastidito le aveva detto finalmente sei arrivata e lei gli aveva risposto ma cosa vuoi dire sono stata lì dentro sì e no 15 minuti ma suo marito le risponde tony si è stata là dentro più di due ore e mezza tony racconta di non essersi proprio accorta di questo dice che era come se kit l'avesse ipnotizzata fatto sta amici che da quel momento in poi tony non aveva mai più fumato come potrete immaginare il matrimonio di tony si rompe poco dopo e lei e kit iniziano una relazione staranno insieme per circa otto anni ma le azioni un po truffaldine di kit all'interno della sua azienda arrivano alle orecchie delle autorità infatti nel 1993 inizia un'investigazione su kit e sulla sua azienda che lo costringe a chiudere baracca e burattini nel 1996 kit viene costretto a pagare una sorta di multa di 40 mila dollari dopo la chiusura dell'azienda ma da questa cosa non impara assolutamente niente non ammetterà mai di aver fatto qualcosa di sbagliato con consumers byline anzi fonda un'altra azienda schema piramidale subito dopo questa volta insieme alla sua ormai compagna tony natalie che chiama cioè l'azienda la chiama national health network una mlm che vendeva vitamine prodotti dimagranti ma anche questo business alla fine fallisce nel 1999 negli ultimi anni però la relazione tra tony e kit inizia a sgretolarsi e questo perché tony si accorge che kit non era l'uomo illuminato e intelligente che pensava ma soltanto una persona molto brava a manipolare la gente molto brava a manipolare lei tony racconta che ad un certo punto kit aveva addirittura iniziato a farle violenza la costringeva ad avere rapporti con lui e tentava di convincerla del fatto che fosse una cosa necessaria le diceva che costringerla era più difficile per lui di quanto non lo fosse per lei ma per fare in modo che l'energia di lui fluisse meglio doveva avere rapporti con lei anche contro il suo volere e purtroppo questa non è l'unica volta in cui kit fa violenza su una donna in questi anni infatti kit aveva iniziato a dare ripetizioni alla figlia di una donna che lavorava insieme a lui nella sua azienda la consumers byline prima che gliela chiudessero la ragazzina in questione di cui non è mai stato rivelato il nome aveva 12 anni e aveva bisogno di aiuto in latino e algebra e quale migliore insegnante dell'uomo più intelligente del mondo peccato che questa ragazzina rivelerà in seguito che tra una ripetizione e l'altra kit aveva iniziato ad avere rapporti con lei e ricordate lei aveva solo 12 anni e lui a questo punto ne aveva più di 30 e prima ancora di questo fatto nel 1984 quindi all'età di 24 anni pare che kit abbia adescato altre due ragazzine due sorelle una di 14 anni di nome gina e l'altra di 15 anni di nome haidi kit aveva iniziato ad avere rapporti con gina la più piccola e quando sua sorella haidi l'aveva scoperto e aveva chiesto spiegazioni a kit lui le aveva risposto che quel rapporto era destinato ad esserci perché sua sorella gina in realtà era una divinità buddista nata per avere rapporti con lui gina era purtroppo caduta nella trappola di kit che era riuscito a farle il lavaggio del cervello l'aveva convinta a lasciare la scuola per lavorare insieme a lui alla consumers byline e aveva continuato a riempirla di fesserie sul fatto che lei fosse in realtà una divinità buddista finché però l'11 ottobre del 2002 era stata trovata senza vita in un monastero buddista a woodstock uccisa da un singolo proiettile alla testa la polizia aveva archiviato il caso come sui video ma il caso è molto più misterioso di così sua sorella haidi infatti racconta che sua sorella non possedesse neanche un'arma o comunque non ne aveva mai usata una quindi se avesse voluto togliersi la vita perché scegliere proprio quel modo non è una cosa affatto comune ma nonostante fossero stati trovati diversi appunti di gina in cui lei stessa scriveva di avere problemi con kit anzi si riferiva a lui proprio come un problema nessuno ai tempi aveva indagato su di lui e la sua reputazione era rimasta intatta comunque negli anni in cui kit lavora nella sua ultima azienda prima che fallisse quella che vendeva prodotti dimagranti un bel giorno incontra un'altra donna di nome nancy solsman un incontro che amici non sarebbe mai dovuto avvenire nancy solsman è una psicologa specializzata in ipnosi e in programmazione neurolinguistica e voglio spiegarvi che cos'è perché la trovo una cosa tanto interessante quanto inquietante la programmazione neurolinguistica conosciuta in breve come pnl o in inglese nlp neuro linguistic programming sarebbe una pseudoscienza ideata in california negli anni 60 secondo la quale si potrebbero cambiare i pensieri e i comportamenti di una o più persone tramite un uso consapevole del linguaggio al fine di aiutarli o al fine di raggiungere determinati obiettivi anche qua amici ci sarebbe un mondo da spiegare perché la pnl trova un ampissimo terreno di intervento con tantissime tecniche diverse in base agli scopi che si desiderano ottenere ma considerando che con questa pratica si possono cambiare e modellare il pensiero il comportamento vi faccio un esempio per farvi capire tra le tante cose la pnl si utilizza anche nel trattamento di ansie o fobie le fobie amici non sono altro che diciamo proiezioni di un problema cioè quando abbiamo la fobia di volare per esempio solitamente non è una paura semplice tipo mi fa paura all'aereo perché ci sono le turbolenze o paura di precipitare non è così semplice perché altrimenti la paura passerebbe non appena si legge non so un articolo che dice che nessun aereo è mai precipitato a causa delle turbolenze o quando qualcuno ci dice che le turbolenze sono perfettamente normali e non succede niente eppure nonostante la persona sia cosciente di tutto ciò la fobia rimane perché rimane perché probabilmente non è che abbiamo la fobia dell'aereo in sé ma il nostro cervello ad un certo punto della sua vita ha fatto un collegamento probabilmente il nostro cervello collega l'aereo con non lo so la mancanza di controllo per esempio quindi più che paura di precipitare abbiamo paura di stare in una situazione di cui non siamo per niente in controllo e questo perché forse ad un certo punto della nostra vita abbiamo avuto un trauma legato alla perdita di controllo e abbiamo materializzato diciamo così questo trauma gli abbiamo dato una forma concreta nella paura dell'aereo non so se mi sono spiegata bene il cervello fa questo tipo di collegamenti costantemente ma noi ovviamente non ce ne rendiamo conto avviene tutto a livello inconscio ecco la pnl riconosce questi schemi mentali chiamiamoli così e li cambia una volta che l'esperto di pnl ti cancella quel collegamento tra paura della perdita di controllo e aereo tu non hai più la fobia dell'aereo mi sono spiegata e non si limita solo a questo è ma anche ad insegnarti come comunicare meglio infatti la pnl viene usata molto nelle mlm perché se comunico meglio sono più convincente sapete tutte quelle tecniche tipo parlare con lo stesso tono di voce usando le stesse cadenze del nostro interlocutore ecco sono tutte tattiche legate alla pnl per manipolare fondamentalmente la persona che si ha davanti col fine di fargli per esempio comprare quello che stai cercando di vendergli in generale la pnl viene usata per aiutare la gente ad abbattere i propri limiti le proprie paure e di conseguenza ad avere più successo nel lavoro nella vita privata eccetera eccetera ed è tutto molto molto affascinante sono tra l'altro felicissima di parlarvi di questo argomento perché il cervello umano è la cosa più bella del mondo secondo me ma capite che in ogni caso si tratta di una tecnica di manipolazione mentale in tutti i sensi cioè queste persone sono in grado di cambiarti i pensieri quindi se usata in modo improprio o da persone con brutte intenzioni questa tecnica può fare dei danni e i danni purtroppo li vedremo più in là nel video spero di essere stata chiara nello spiegare questi meccanismi perché non è facile quindi torniamo a noi nancy solsman è appunto una psicologa che sa ipnotizzare la gente ed è anche un'esperta di pnl e una cosa da sapere è che anche kit è un esperto di pnl ovviamente nancy solsman un giorno si presenta nell'ufficio di tony la fidanzata di kit perché voleva comprare delle vitamine vi ricordate tony e kit avevano quella compagnia di vitamine cose dimagranti eccetera e tony in questo modo conosce nancy e le due parlano della dieta di nancy e tony insomma l'aiuta nancy è così entusiasta che ad un certo punto le chiede se c'è qualcosa che posso fare per aiutare te dimmelo ti aiuto con piacere allora tony che come abbiamo visto aveva problemi con kit chiede aiuto a nancy le dice guarda puoi aiutare non tanto me ma il mio fidanzato nancy l'ascolta e alla fine la guarda e le dice oh ma certo che posso aiutarti è molto semplice kit è un sociopatico molto bene tony allora è fiduciosa che nancy possa davvero aiutarlo quindi li fa incontrare e quattro giorni dopo nancy torna da tony con gli occhi sbarrati e le dice tu non sai chi è lui e tony ricorda di aver pensato ecca là ecco un'altra ed è a quel punto che kit ranieri insieme a nancy salsman fondano nexium nexium nasce come azienda diciamo come organizzazione che fornisce dei corsi per lo sviluppo personale kit insieme a nancy sosteneva di aver creato un modo scientifico cioè provato scientificamente per appunto migliorare la vita delle persone per renderle più felici più forti in generale più di successo per raggiungere questi obiettivi bisognava frequentare un programma che si chiama esp executive success program e frequentando questi seminari man mano salivi di livello e oltre a stare meglio tu salendo di livello avevi l'opportunità di far star meglio anche gli altri oltre questi seminari dovevi fare anche delle sedute di em le sedute di em sarebbero una cosa che kit ha un po scopiazzato da scientology solo che in scientology si chiama auditing ma ovviamente kit sostiene di aver inventato le sedute di em fa parte del suo metodo scientifico per migliorare insomma le persone quindi va bene nelle sedute di em praticamente non chiedetemi come ma sicuramente utilizzando anche tecniche di pnl per questo ve l'ho voluto spiegare prima riuscivano a cancellare le paure delle persone i limiti a trasformare i loro pensieri a cambiare qualsiasi convinzione avessero fino a quel momento quindi facendo tantissime sedute di em e partecipando a tantissimi corsi e seminari potevi salire di livello perché man mano secondo loro ti evolvevi la verità è che più facevi tutte queste cose più ti veniva lavato il cervello quindi quando raggiungevi un livello ottimale di brainwashing allora potevi passare al livello successivo fondamentalmente e il sistema era strutturato esattamente come uno schema piramidale cosa in cui kit era ormai ferratissimo praticamente c'era un sistema gerarchico con tutta una serie di fasce proprio di di sciarpine tipo di seta con colori diversi che differenziavano i vari livelli come nel karate per capirci quindi tu partivi come studente con una fascia bianca ma dopo aver fatto corsi su corsi su corsi prima o poi diventavi un coach e ricevevi la sciarpa gialla ma per diventare coach gli studenti dovevano frequentare questi corsi costantemente come se fosse un lavoro infatti veniva definito un tirocinio non retribuito gli studenti inoltre dovevano riuscire a reclutare almeno tre nuovi membri nell'arco di sei mesi e man mano che crescevi dovevi reclutare sempre più persone ovviamente per diventare dei nuovi membri amici si dovevano spendere ben 5000 dollari e ogni corso aveva dei costi spropositati una volta diventato coach eri tu che formavi i nuovi studenti lavorando 10 11 ore al giorno senza sosta sempre senza retribuzione tutto con l'obiettivo di arrivare al livello successivo che sarebbe un proctor e così da ottenere la fascia arancione teoricamente una volta diventati proctor si iniziava a guadagnare grosse somme di denaro quindi chiaramente tutti non vedevano l'ora di raggiungere quel livello ma di nuovo per arrivarci dovevi prima comunque pagare uno sproposito infatti kit e nancy dicevano ai coach che ci sarebbero voluti sì e no nove mesi massimo un anno per diventare proctor ma in realtà ogni volta questi criteri cambiavano quindi prima di diventare un proctor ti spremevano dei tuoi soldi e delle tue energie completamente pensate che da proctor per diventare senior proctor che sarebbe il livello ancora successivo dovevi fare un investimento di almeno un milione di dollari e per il livello ancora successivo ne dovevi spendere almeno 5 di milioni kit era ovviamente la punta di questa piramide il capo di tutto e veniva trattato letteralmente come un dio pretendeva che la gente lo chiamasse vanguard e soprattutto baciava tutti sulla bocca ma io voglio direi felanze grazie 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 You guys don't have these in Italy, but in the U.S., they're these little cookies with the tummy of the bear is very fat. But I was like, this guy? That guy? I just kind of felt guilty that I didn't think that he was amazing right away. But because of the grooming and the indoctrination that I was unaware of, I began to feel very differently about him over the years. And all of a sudden, I felt like very reverential towards him, like, oh, Keith, like, oh, I have to be very careful around Keith. Like, I don't want to bother him. I need to be very specific about my questions. And so because of the way that they built him on this pedestal amongst the students, I also started to feel different about him. But I didn't come to NXIVM for Keith. I didn't come to ESP for Keith. So for me, it was kind of weird that they were all so obsessed with him, but I also, my brain and my mind did start to change significantly. E voi direte, ma perché mai io dovrei chiamare un tizio vanguard, baciarlo sulla bocca, ma soprattutto spendere tutti questi soldi, probabilmente venendo travolto dai debiti? Cioè, ma perché cosa? Che cosa ci guadagnava la gente che entrava in questa organizzazione? Beh, amici, ve lo spiego subito. Qual è la cosa che tutti vogliamo nella vita? Tutti, nessuno escluso. La felicità, giusto essere felici, sereni, qualsiasi cosa voglia dire per ognuno di noi. E che cos'è che a chi più, a chi meno, lo impedisce? I nostri limiti. Tutti abbiamo dei limiti, delle paure, dei traumi che ci impediscono di raggiungere il nostro potenziale massimo. Che ne so, vorrei essere più estroverso, però sono molto timido, non sono sicuro di me. Oppure vorrei viaggiare il mondo, però soffro, che ne so, di ansia o mi spaventa prendere l'aereo o stare troppo fuori dalla mia comfort zone, o anche solo vorrei essere pieno di soldi, vorrei essere ricco, ma non so come fare. Insomma, tutti abbiamo qualcosa che vorremmo raggiungere, ma non riusciamo a causa di qualcosa che ci limita. Ora, pensate che qualcuno arrivi da voi e vi dica Io posso far sparire tutto questo, posso far sparire ogni tuo limite, ogni tua paura. Ed è un dato di fatto, perché a dirvelo magari è un vostro amico fidato che è entrato a far parte di questa organizzazione, una persona di cui vi fidate, magari un parente, un genitore addirittura, che vi giura di aver ottenuto dei risultati allucinanti. Ed è facile ora da fuori dire, sì vabbè ma a me non sarebbe mai capitato, a me non avrebbero mai convinto. Io amici penso che se pensate questo, significa che forse non vi state immedesimando abbastanza. Io penso che questo genere di indottrinamento potrebbe capitare a chiunque. Ovvio alcuni di noi sono più predisposti di altri e io sto assolutamente generalizzando, ma qua parliamo di gente che pensava di entrare in un'organizzazione umanitaria, un'organizzazione buona, piena di gente intelligente, che faceva del bene e aumentando di livello non solo potevi abbattere i tuoi limiti, ma potevi aiutare anche gli altri a farlo. Amici, queste persone erano convinte di poter cambiare il mondo e chi non vorrebbe una cosa del genere? Chi non vorrebbe un mondo senza cattiveria e odio e paure? Paradossalmente queste persone si sono unite a Nexium per essere più libere, senza sapere che presto invece sarebbero letteralmente diventati degli schiavi nel vero senso del termine. My first question is, how did they convince you? I mean, not convince you, but the indoctrination process, let's say. How did it happen? So basically, and I really appreciate this question, because I have been on the receiving end of your question many times, which is, how could this happen to someone? would never happen to me, and that I've heard so many times. And what I like to say to people is that it could actually happen to anyone. And that's what you don't realize. And it's not anything to do with your personality or your education level or where you come from or your family. It honestly has to do with vulnerabilities. And if you have any vulnerabilities, which as a human being we all do, we all have them, it makes us human, then there's going to be people in the world who are very good at identifying your vulnerabilities, and they can do one of two things. They can help you or they can hurt you. So there's people out there that will do that. And they spend time trying to figure out how to manipulate people. And I, being the type of person that I am, would never think about spending my time on, how can I manipulate this person? How can I get things from this person? Sure, have I felt those types of feelings in my life? Of course. But it's not my brain isn't set up to win and to conquer and to possess other people. There are people out there, mostly like sociopathic, who that's how they think. Yes. They think, how can I win? How can I possess things from this person? How can I control this person? And they will do whatever they need to do to manipulate you into believing that it's your idea. So basically, when it comes to coercion, which is basically presenting somebody with one thing and then steering them in the direction that you desire, not the direction that you're presenting. It's trickery, but it can be done in many ways. And for me, what they got was they got me at the perfect time of my life. I was 19 years old. I had just left university. I was looking for something and I was so insecure about my own capacity to be successful. I mean, granted, I was 19 years old and I just feel like I finally found my footing in my place because I was having so many expectations of myself to be successful, to know what career I wanted, to know where I needed to go. And that's bullshit. Yes. Like, that's a very, very big burden on a young person. And I think a lot of people feel that way because they feel like I've inherited this planet with all of these issues. Now, what the hell am I going to do? Yeah. So I was at the perfect place for them. And I actually was looking for guidance. And what they presented to me was their consumer front program, which was called ESP. Yes. ESP was promoted as an executive success course. And I was, me, my 19-year-old self, was sitting in the audience going, me, like, that's me. I'm the one with all the fears that are blocking me from doing my potential. Like, help me, help me, help me. So, yes, they did present a product that I agreed to, but what I agreed to was not an abusive, you know, possessive, controlling community that was going to ultimately extract tons of money and time and majority of my 20s. Did I ask for that? No. Comunque, l'organizzazione inizia ad espandersi e nel 2000 entrano a farne parte due donne di nome Claire e Sarah Bronfman, che sarebbero le ereditiere multimiliardarie di Edgar Bronfman, creatore del noto marchio di liquore Seagram. Le sorelle Bronfman vengono subito indottrinate da Kit, che chiaramente aveva bisogno di loro, più che altro dei loro soldi, e ci riesce. Infatti, le sorelle Bronfman finanziano in tutto e per tutto Nexium, spendendo milioni e milioni di dollari. Pensate che ad un certo punto riescono a convincere persino il Dalai Lama ad andare ad uno dei loro eventi e questo è stato un bel colpo da parte di Nexium, perché il Dalai Lama dava estrema credibilità all'organizzazione, cioè passava il messaggio che il Dalai Lama approvasse questa organizzazione. E la verità è che ai tempi non si conoscevano ancora le attività illecite che si svolgevano all'interno della setta, non si sapeva ancora che fosse una setta, neanche i membri stessi avevano ancora capito la vera natura di Kit. E il Dalai Lama pare sia stato pagato più di un milione di dollari per fare quell'apparizione, quindi sembrerebbe che i soldi possono davvero comprare ogni cosa. Ci tengo però a dire che il Dalai Lama ha sempre negato l'aver ricevuto somme di denaro per presenziare a quell'evento, io lo dico. Comunque adesso Nexium aveva i soldi, aveva la credibilità, ma chiaramente aveva bisogno di reclutare sempre più membri, aveva bisogno di più popolarità. E qual è il metodo più efficace per arrivare a più persone? L'influenza delle persone famose. Nexium aveva bisogno di celebrità. Guardate Scientology, sperando che non cerchino di nuovo di denunciarmi. Scientology ha fatto il boom in America quando ha iniziato ad essere, diciamo, pubblicizzata da diverse celebrità. La gente voleva saperne di più. Moltissima gente è voluta entrare a far parte di Scientology solo perché era la stessa chiesa di Tom Cruise. Funziona così e funziona così con tutto. Ormai lo sappiamo, non viviamo più nell'era dell'informazione, viviamo nell'era dell'influenza. Ci fidiamo di quello che sponsorizza il nostro influencer di fiducia e spesso ci fermiamo lì. Cioè, se quella persona che per noi è influente, di cui noi ci fidiamo, dice una cosa o mi consiglia un prodotto, io tendenzialmente mi fido e lo compro o comunque formo un'opinione positiva su quella cosa. Ovviamente anche qua sto generalizzando, ma credo sia successo un po' a tutti, o perlomeno a me è sicuramente successo. È una cosa normale, è puro e semplice marketing. E Kit lo sa che funziona così, di conseguenza inizia a reclutare delle celebrità, tra cui Alison Mack, la star di Smallville, di cui però parleremo meglio più avanti perché lei avrà un grande ruolo all'interno di Nexium. Oltre a lei ci sono molte altre celebrità che Kit riesce ad adescare e ad indottrinare, tra cui Sarah Edmondson, un'attrice canadese, Nikki Klein, anche lei attrice canadese che ha recitato in Battlestar Galactica, Mark Vincent, il regista del film What the Bleep Do We Know e la nostra India Oxenberg, figlia appunto di Katherine Oxenberg che sarebbe una famosa attrice di Hollywood che ha recitato in tantissimi film e telefilm, tra cui il famosissimo Dynasty. Ma anche molte altre star si sono avvicinate a Nexium ad un certo punto, come Jennifer Aniston, Rosario Dawson, Gerard Butler. Pare che queste celebrità abbiano fatto però qualche corso. Non so fino a che punto si siano spinte all'interno di Nexium, però sicuramente sono state attratte dall'organizzazione. In ogni caso, tutte le celebrità o comunque tutte le persone che Nexium ritiene importanti o influenti appena entrate vengono subito travolte di amore, attenzioni attraverso la tecnica di manipolazione conosciuta come love bombing, ovvero ti faccio sentire importante, ti do tutte le mie attenzioni, ti faccio sentire che sei nel posto giusto e in questo modo ti conquisto, ti attiro nella mia rete. Perché se una persona si sente amata, si sente bene, è probabile che voglia rimanere nel posto o insieme alla persona che la fa sentire così, giusto? Pensate anche alle relazioni tossiche, una cosa che magari ci viene più facile da capire. Il partner tossico tendenzialmente all'inizio ci fa love bombing, ci riempie di amore, si mostra bravissimo, amorevole, rispettoso, perfetto e solo più in là nel tempo mostra la sua vera natura. Ma a quel punto noi siamo già, diciamo, caduti nella sua trappola e la persona tossica è manipolatrice, quindi ci convincerà che è colpa nostra se le cose non vanno più bene. Nel senso, non ti ricordi, all'inizio era tutto stupendo, deve essere colpa tua se non è più così. E quindi non riusciamo ad uscire da questo circolo vizioso, perché tentiamo di dimostrare al partner o a noi stessi che possiamo tornare a quello stato idilliaco di una volta, se ci impegniamo di più, se ci comportiamo meglio. Ma ovviamente è tutta un'illusione, quella fase iniziale è un'illusione, non è autentica. India, per esempio, è entrata in Nexium all'età di 19 anni, all'inizio insieme a sua madre, anzi, era stata proprio sua madre a portarla al primo incontro, seguendo il consiglio di un caro amico, pensando che fosse appunto un'organizzazione di autoaiuto, che poteva essere utile a lei e sua figlia per diventare persone migliori, per stare meglio. Dovete sapere che India, oltre ad essere figlia di una celebrità, ha anche discendenze reali, infatti è la nipote della principessa di Jugoslavia, quindi agli occhi di Nexium, India, oltre ad essere una donna molto sveglia, intelligente, influente, in vista, è anche una persona con i soldi. E le sette hanno bisogno di persone intelligenti, influenti e con i soldi, perché potenzialmente sono proprio quelle le persone che possono sfruttare per crescere sempre di più. Per questo è totalmente sbagliato pensare alle persone che entrano a far parte di queste sette come persone stupide o credulone. Di solito è proprio tutto l'opposto. Quindi Nexium riesce ad attirare India nella sua rete e dopo aver iniziato il loro lento ma efficace indottrinamento, la convincono del fatto che il rapporto con sua madre fosse un limite per lei, un limite di cui doveva liberarsi. Questa è una cosa molto comune, le sette tendono a volerti isolare, così da farti perdere il contatto con la realtà, così che il loro modo di pensare sia l'unico ad influenzarti. India passa molti anni all'interno di Nexium e anche lei racconta che all'inizio tutto fosse bello, l'aveva davvero aiutata a stare meglio e aveva davvero l'impressione di aiutare gli altri. Racconta che però ad un certo punto aveva iniziato a non stare più bene. La facevano lavorare come una pazza, ovviamente sempre senza retribuzione. Lei era una coach, quindi ancora non guadagnava soldi, ma imponevano dei ritmi allucinanti, tipo sveglia alle 5, allenamento, poi corsi, corsi, corsi fino alle 8 di sera, poi sedute di IM fino alle 2-3 del mattino e poi si ricominciava tutta da capo. Inoltre, i membri di Nexium facevano anche una cosa chiamata readiness drills, che si traduce in tipo esercitazioni di prontezza. In sostanza avevano dei gruppi sul cellulare e a qualsiasi ora del giorno o della notte potevano arrivare dei messaggi con su scritto ready, ovvero pronto, sono pronto, e tutte le persone nel gruppo avevano 60 secondi per rispondere anche loro ready. Se non lo facevano, se non rispondevano in tempo, venivano puniti. Le punizioni potevano essere, non so, fare una doccia ghiacciata oppure svegliarsi alle 4 del mattino e stare in piedi fermo per un'ora. E non c'erano scuse, dovevi essere pronto, dovevi essere reattivo. Qualsiasi cosa tu stessi facendo, non importava se stavi dormendo o guidando o non lo so, dovevi rispondere. Questo era l'ennesimo modo per controllare le persone e la violenza in questa cosa è molto subdola perché se ci pensate dicendo sono pronto in qualsiasi momento stai in qualche modo dando il tuo consenso a qualsiasi cosa. Un'altra tecnica per mantenere queste persone sotto scacco era proprio stancarle fisicamente. Non era un caso che facessero orari assurdi. Anche quella è una tecnica di manipolazione. Chiaramente persone che sono più stanche che dormono poco e niente sono più facili da manipolare, controllare. E tra l'altro oltre a tutte queste cose alle mille ore di lavoro oltre alle esercitazioni improvviso si aggiungevano anche le passeggiate con Keith. La sede centrale di Nexium si trovava ad Albany vicino a New York. Keith viveva lì così come anche tantissimi membri di Nexium. Ecco Keith era noto per fare queste lunghissime passeggiate notturne. Cioè lui la notte si vantava di non dover dormire. Cioè lui era talmente illuminato che non aveva neanche bisogno di dormire. Dormiva sì e no due ore a notte e il resto del tempo camminava e sistematicamente invitava anche altri adepti a camminare insieme a lui. E cosa fai se il tuo vanguard ti chiede se vuoi andare a camminare insieme a lui alle due di notte? Accetti ovviamente nessuno si sarebbe sognato di rifiutare era un grande onore. Tutti ammiravano Keith perché non capivano come facesse ad essere questa persona brillante sempre operativa dormendo due ore a notte. La verità è che non era così. Cioè sì magari dormiva due ore la notte ma poi segretamente a casa aveva tutta una serie di donne che cucinavano per lui che pulivano per lui che facevano cose per lui mentre lui dormiva. Un'altra cosa importante da sapere su Keith è che diceva di essere casto ovvero lui non faceva sesso. Se vi ricordate all'inizio abbiamo visto che Keith stava con una donna Tony Natalie e a quel tempo decisamente non era casto anzi stando a quello che dice lei aveva fatto violenza su di lei e non solo lei parecchie volte. Beh la relazione con Tony era durata otto anni ma poi era finita quindi ecco ricordatevi questa cosa ovvero che Keith diceva di essere casto come se fosse un prete insomma un monaco all'interno di Nexium c'erano delle altre organizzazioni ce n'era una per esempio per i bambini in cui si mandavano appunto i bambini come se fosse una scuola con insegnanti ovviamente di Nexium che insegnavano a questi bambini tutto sull'organizzazione e insomma iniziavano a fargli il lavaggio del cervello già da una giovanissima età ma gli insegnavano anche diverse lingue insomma li formavano a diventare dei futuri leader di Nexium e come dicevo c'erano tante organizzazioni sotto Nexium ma quelle che interessano a noi sono due una si chiama SOP e l'altra GNS SOP era un'organizzazione per soli uomini a cui si insegnavano cose bizzarre tipo come l'uomo sia un essere superiore o come l'uomo non sia monogamo e di come di conseguenza le mogli non dovrebbero mai opporsi a questa cosa dovrebbero lasciare che l'uomo abbia più donne invece Jeunesse era la stessa organizzazione ma al femminile quindi fatta di sole donne in teoria donne che si aiutavano a vicenda che si sostenevano ma in realtà era solo tutta misoginia velata infatti in generale in tutti questi corsi in questi seminari Kit diffondeva degli insegnamenti ben precisi con un fine ben preciso praticamente sosteneva che noi umani siamo gli artefici di tutto quello che ci accade tutto dipende da noi qualsiasi cosa ci capiti siamo noi padroni di vivere le cose come vittime oppure no Kit fa degli esempi che io vi giuro ho avuto difficoltà ad ascoltare e alcuni non sono neanche riuscita a scriverli nei miei appunti Kit nei suoi seminari spiega che nel caso per esempio di una violenza sessuale quando una donna per esempio viene violentata non è mica un abuso cioè perché se non ci fosse una legge che dice non si possono violentare le persone allora non sarebbe più una violenza cioè è il sistema che ha deciso che per esempio la violenza è illegale e questo secondo lui ci rende tutti delle vittime siamo vittime del sistema siamo vittime di leggi che sono state scritte da altri che altri hanno imposto per metterci dei limiti per controllarci cioè di conseguenza secondo Kit se io donna vengo violentata e ci sto male no? e rimango traumatizzata dalla cosa è colpa mia perché secondo Kit sono stata io a decidere di vivere quella situazione da vittima sono io che ho scelto di essere vittima di un sistema che mi ha convinta che la violenza è sbagliata di fronte a questi discorsi amici obiettivamente forti e scioccanti e sbagliati a dire poco abominevoli direi chiaramente le persone rimanevano turbate le persone non erano proprio agio ma Kit gli ha anche insegnato che in quei casi quando non si sentivano a loro agio era giusto era il cambiamento che stava avvenendo dentro di loro si sentivano in quel modo perché la società li aveva limitati invece adesso lui li stava riprogrammando gli stava riprogrammando il cervello liberandoli da quei vincoli la verità amici è che Kit stava addestrando le persone della sua setta a non fidarsi del proprio istinto ad ignorare il loro istinto cioè il contrario di quello che io spesso vi dico nei video che vi dico ascoltate la vostra pancia il vostro istinto quando sentite nella pancia che qualcosa non va probabilmente perché non va invece lui diceva proprio il contrario cioè se sentite nella pancia che qualcosa non va continuate a fare quella cosa perché vuol dire che vi state evolvendo e chiunque vi dica al contrario vuole limitarvi e ricordatevi questo discorso perché è molto importante trovo che questo discorso sia la risposta alla domanda ma come cavolo ha fatto Keith a convincere queste persone a fare quello che hanno fatto reading about what like for example Keith Ranieri was teaching people like he trained you to ignore your sixth sense like your gut 100% that has like Elisa that has been the most difficult thing for me to get back because my intuition was crushed crushed to the point where it was so faint that I could barely hear that voice inside of myself of course in part of my healing has really been to just be with myself listen to myself hear the communication from my body and what like my soul and to know that that's my truth torniamo a India dunque India inizia a non sentirsi più bene faceva orari assurdi era sempre stanca ma sentiva che non stava più facendo progressi e un giorno Alison Mack l'attrice di Smallville lo nota va da lei e le chiede come stai come sta andando il tuo percorso e lei le risponde sinceramente che appunto non sentiva di fare passi avanti al che Alison risponde lo sai voglio coinvolgerti in qualcosa che penso faccia proprio al caso tuo e questo è tipico non solo delle sette ma anche degli schemi piramidali ti fanno avere un po' di successo all'inizio quanto basta per guadagnarsi la tua fiducia ma poi tutto si ferma non fai più progressi e ti convincono che sia tutta colpa tua sei tu che non sei abbastanza per questo non fai progressi ma la verità è che è tutta una strategia cioè è tutta colpa loro hanno fatto tutto loro nel documentario che vi lascio in descrizione che ho guardato su questa storia fanno questo esempio calzante dicono che la setta prima ti spinge per terra e poi ti dà la mano per farti alzare e tu automaticamente sei così grato per questa mano che ti tendono comunque Alison Mack dice a India guarda ho questo progetto pazzesco in cui voglio coinvolgerti ma non posso dirti di più per adesso prima ho bisogno che tu mi dia qualcosa in cambio Alison chiede ad India di darle qualcosa di riservato sulla sua vita o sulla sua famiglia qualcosa che se rilasciato al pubblico avrebbe potuto rovinare la sua vita o quella della sua famiglia letteralmente le chiede del materiale con cui poterla eventualmente ricattare questo materiale viene chiamato collateral ovvero garanzia la garanzia che India decide di fornire è del materiale sulla sua famiglia che fortunatamente ad oggi non si conosce cioè non è mai stato rilasciato al pubblico ma comunque se fosse stato divulgato avrebbe creato dei danni alla sua famiglia Alison le chiede di prendere questo materiale e di farlo autentificare da un notaio e poi indirizzarlo ai media tipo al New York Times per esempio in modo che nel caso in cui India avesse mai parlato a qualcuno di quell'organizzazione loro avrebbero immediatamente divulgato quella garanzia India si fida di Alison a quel punto fa parte di Nexium da circa 5 anni e non farebbe nulla per danneggiare l'organizzazione né penserebbe mai che Alison potrebbe fare qualcosa per danneggiare lei quindi le dà questa garanzia e subito dopo Alison inizia come promesso a spiegarle tutto quanto riguardo questo progetto segreto si trattava di un'organizzazione di nome DOS formata esclusivamente da donne che però non aveva nulla a che fare con Nexium cioè le donne che ne facevano parte erano comunque tendenzialmente di Nexium però DOS non era gestita da Kit anzi Alison spiega che Kit non era neanche a conoscenza di DOS e non doveva saperlo le spiega che DOS l'avrebbe aiutata a raggiungere le sue massime potenzialità molto più di Nexium ma per riuscirci India doveva dimostrare totale ubbidienza e fedeltà ad Alison al che India le chiede cosa significa totale ubbidienza tipo che devo chiederti il permesso per fare alcune cose tipo prima di avere un fidanzato o di viaggiare Alison la guarda e le risponde dovrei chiedermi il permesso prima di fare qualsiasi cosa la dinamica che adottiamo in DOS è una dinamica schiava padrone quindi tu sarai la mia schiava e io la tua padrona infatti amici la sigla DOS sta per dominus obsequius sororium che dal latino si traduce più o meno in padrone delle schiave donne a queste parole India ha proprio una reazione fisica di sgomento e lo palesa le dice Alison io mi sento a disagio non mi sento bene al pensiero di quello che mi stai dicendo e Alison prontamente le risponde che era perfettamente normale vi ricordate il discorso che abbiamo fatto prima Kit aveva addestrato le donne da anni con i suoi corsi i suoi seminari il suo lavaggio del cervello per questo momento seguendo il suo ragionamento Alison rassicura India dicendo che era giusto così era normale che si sentisse a disagio era segno che stava facendo la cosa giusta che stava uscendo dalla sua comfort zone significava che doveva andare verso quella sensazione di disagio le spiega anche che alla fine era solo terminologia cioè le dice che schiava padrona alla fine non è tanto diverso da studente mentore e la tranquillizza dicendo che faceva tutto parte del programma e che il programma l'avrebbe aiutata davvero a stare meglio nella vita a questo punto amici penso che non ci sia neanche bisogno di spiegarvi come il ricatto sia un modo per controllare qualcuno cioè fino ad ora abbiamo parlato di manipolazione mentale ma da questo punto in poi il consenso non esiste neanche più da questo punto in poi parliamo proprio di ricatto India non era più libera di dire ah ok guarda siamo a posto così a pensarci bene questo progetto non mi interessa ciao amiche come prima perché adesso Alison aveva del materiale con cui ricattarla e quando India glielo dice quando le dice Alison io sono spaventata io ti ho dato questa garanzia e ora ho paura che se rifiuto tu divulgherai questo materiale Alison ovviamente le risponde ma come fai a pensare questa cosa di me lo vedi che sei ancora schiava delle tue paure lo vedi quanti limiti devi ancora superare hai decisamente bisogno di entrare in questo programma e così India entra a far parte di DOS si fida di Alison e come lei tante altre donne che come lei per anche solo avere informazioni su che cosa fosse DOS hanno dovuto dare a loro volta delle garanzie in DOS le donne che erano appunto schiave venivano costrette a fare parecchie cose tra cui perdere peso non potevano mangiare più di 500 calorie al giorno e questo secondo le padrone era per allenarle a fortificare il carattere e la loro forza di volontà cioè il controllo sul loro corpo 500 calorie amici immaginate di mangiare 500 calorie massimo in una giornata in cui fai 10.000 cose ai ritmi che vi ho spiegato prima queste donne continuavano a svegliarsi alle 5 del mattino a fare tutti i loro corsi per Nexium in più dovevano fare tutte le cose per DOS in più avevano le esercitazioni improvvise con i messaggi vi ricordate ready ready tutto ciò con 500 calorie in corpo cioè ormai non riuscivano neanche più a pensare a ragionare e prima di mangiare qualsiasi cosa dovevano chiedere il permesso India ogni volta che voleva mangiare qualcosa doveva fare la foto al cibo nella mano e doveva mandarla ad Ellison scrivendo ciao padrona perché era anche obbligata a chiamarla così ciao padrona posso mangiare che ne so 100 calorie e poteva mangiarle solo se Ellison rispondeva di sì poi ogni mattina e ogni sera doveva scriverle buongiorno padrona buonanotte padrona e se non faceva quello che Ellison le imponeva o se non rispettava la dieta ovviamente c'erano delle punizioni severissime alcune donne sono state costrette a stare in piedi completamente nude in mezzo alla neve alle 3 del mattino oppure alcune sono state addirittura picchiate con una pagaia di legno ad un certo punto Ellison inizia a dire a India che doveva lavorare di più sui suoi limiti soprattutto quelli sessuali e India è confusa non capisce e soprattutto non sapeva di avere dei limiti sessuali e un bel giorno Ellison la prende e le dice ho un nuovo compito per te devi sedurre Kit lì per lì India non pensa che sia una cosa sessuale perché ricordate Kit teoricamente è casto non fa sesso quindi India non pensa di dover fare sesso con Kit ma poi Ellison le dice che quella sera sarebbe dovuta andare a casa di Kit si sarebbe dovuta spogliare nuda e si sarebbe dovuta far fare una foto da lui come prova India non può fare altro che ubbidire quindi va a casa di Kit a fare questa foto cercando sempre di scacciare quella sensazione di disagio fortissimo nella sua pancia che le diceva di scappare e nel corso di questa serata Kit le dice una cosa le dice che Ellison era la sua padrona di India giusto? ma lui era il padrone di Ellison Ellison quindi era la sua schiava e di conseguenza lui era il grand master di India cioè quindi il padrone supremo India a quel punto è confusa perché vi ricordate in teoria DOS era un'organizzazione segreta di cui Kit non sapeva nulla e invece a quanto pare era l'ennesimo schema piramidale di cui lui era il capo praticamente in cima c'era lui e poi sotto di lui c'erano delle schiave che erano Ellison e altre donne di Nexium di alto livello che a loro volta avevano reclutato delle schiave come Ellison aveva reclutato India e presto anche India avrebbe dovuto reclutare delle sue schiave e così via l'obiettivo di Kit amici era quello di arruolare e addestrare centinaia migliaia di donne schiave e di farle entrare ad un certo punto addirittura in politica o alla casa bianca una volta riuscite ad infiltrarsi nel governo Kit avrebbe potuto letteralmente dominare il mondo questo era il suo grande piano e secondo me amici lo è sempre stato fin dall'inizio Nexium era solo un modo per arrivare a creare il suo esercito di schiave e questa è una cosa di cui io sono convinta e che ho proprio voluto chiedere a India ho voluto sapere il suo parere Do you think that his intentions were good at the beginning and then changed along the way or do you think it was all un elaborate scheme to get to DOS and to satisfy his ego his thick brain che ci stavano davvero bene, perché è stato un po' scarico per me di acceptare che ciò che aveva fatto è stato un po' dangerous e per me, e per altre persone. Quindi, come, mio ego è stato un po' scarico, e ho anche stato stato un po' scarico, non un po' scarico. Ora che ho fatto un po' di researche su culte, culte leader, ho capito che il storico di Keith e le ripetere offensi che ha avuto per, you know, 20 plus anni, e il mio credito è molto forte che ha avuto che iniziava quello che aveva fatto e che sia stato all'orchestrata per il suo più desidero per potere e controllo. Ma è stato un po' greco e voleva più, 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 e più, 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 per farlo, per farlo. Quindi, io credo che aveva capito e aveva potuto anche un po' di altre persone in cui aveva un po' di idee e aveva un po' di informazioni di loro, give them certain information to manipulate people towards his goals dopo qualche tempo India e altre donne erano dimagrite così tanto che non avevano neanche più le mestruazioni che è quello che succede quando privi il tuo corpo di cibo per molto tempo è una cosa davvero molto grave ma le loro padrone le tranquillizzano dicendo che fosse normale Alison come abbiamo visto era la schiava di Keith ed era stata messa a dieta da lui anni e anni prima e lei dice ad India di star tranquilla perché lei non aveva più il ciclo da dieci anni nel 2016 Alison organizza un piccolo viaggio per lei e altre donne schiave sempre di DOS doveva essere un viaggio tranquillo in uno chalet nel bosco un modo per stare insieme per legare tra loro ma ad un certo punto durante una di queste giornate Alison dice alle altre ragazze che dovevano spogliarsi completamente nude e dovevano fare una foto tutte insieme la definisce una semplice foto di famiglia ma in realtà non era altro che l'ennesimo modo per denigrarle per farle sentire a disagio e più facilmente sotto scacco dopo aver fatto questa foto però una di queste donne vede che Alison aveva preso il cellulare e l'aveva inoltrata a Kit e la risposta di Kit era stata tutte per me con l'emoticon del diavoletto allora questa donna che aveva visto questa cosa si ribella chiede ad Alison spiegazioni Kit in teoria era casto vi ricordate quindi che risposta è da parte di un uomo che in teoria non ha nessun interesse sessuale verso di loro la donna chiede molto chiaramente ad Alison se Kit provasse piacere guardando quelle foto cioè se lei gliel'avesse mandata per quella ragione al che Alison ovviamente le risponde come osi pensare una cosa del genere se pensi questo è un tuo problema è una tua proiezione sei tu che hai pensieri maliziosi e li proietti su Kit sei tu il problema e come punizione Alison dice a tutte le donne presenti che avrebbe fatto una foto della loro vagina da vicino un primo piano e loro hanno dovuto ubbidire perché ricordate se qualcuno disubbidiva il materiale incriminante su di loro o sulle loro famiglie sarebbe stato divulgato quindi non avevano scelta da quel momento in poi le schiave vengono costrette a dare altre garanzie ogni mese e poi ogni settimana ogni settimana dovevano fornire alle loro padrone e di conseguenza a Kit materiale sempre nuovo che fosse altamente incriminante per loro o per le persone a cui tenevano e chiaramente però non tutti hanno tutti questi grandi segreti nella loro vita no? ma le padrone erano chiare se non hai materiale incriminante su nessuno inventatelo perché chiaramente non c'era alternativa perché se non fornivi materiale ogni settimana o ogni mese voleva dire disobbedire quindi queste donne hanno iniziato ad inventarsi cose ogni volta a inventarsi che ne so che i loro mariti picchiavano i loro figli o che i loro padri avessero abusato di loro e in quel modo era ancora peggio perché certo erano cose inventate ma se fossero state divulgate sarebbero comunque state gravi le persone che stavano accusando di queste cose orribili sarebbero comunque state investigate quindi per esempio India ha iniziato a inventare cose orribili su se stessa così che almeno se un giorno avessero divulgato tutto sarebbe finita nei guai soltanto lei ma non si trattava solo di informazioni avevano dovuto dare come garanzie anche carte di credito proprietà immobiliari insomma qualsiasi cosa possa venirvi in mente queste persone erano tenute sotto scacco completamente a questo punto cioè capite quando dico non avevano scelta ovviamente la scelta l'avevano potevano andarsene ma a che prezzo cioè uscire da una situazione di ricatto è già difficile normalmente ma pensate in questo caso cioè stiamo parlando di donne indottrinate da anni e anni private della loro libertà private di cibo private di sonno io penso che in quelle condizioni ti arrendi e basta e a qualsiasi cosa non hai neanche più le forze di pensare figuriamoci di ribellarti rischiando la tua vita e di tutte le persone a te care comunque dopo un po' Kit inizia a pretendere cose da queste schiave direttamente inizia a mandare per esempio a India dei messaggi a qualsiasi ora del giorno della notte chiedendole per esempio delle foto il più delle volte erano foto della sua vagina qualsiasi cosa lei stesse facendo doveva fermarsi e fare questa foto e se la foto non era come Kit voleva che ne so se per esempio si vedeva dal viso di India che non si stava divertendo facendo quella foto Kit le ordinava di farla ancora e ancora finché non era soddisfatto il passo successivo è stato ordinare ad India di andare a casa sua perché dovevano lavorare insieme Kit le aveva chiesto di togliersi tutti i vestiti e di sdraiarsi sul letto e poi aveva iniziato a farle dei discorsi sul fatto che India avesse dei blocchi sessuali che doveva rimuovere per potersi evolvere e che ovviamente lui poteva aiutarla e in che modo poteva aiutarla? Facendo una cosa che lui definiva lavorare su di lei come se fosse una terapia medica ma in realtà non era altro che sesso orale e India doveva stare lì ferma doveva lasciarsi fare tutto questo India racconta che in quei momenti quella sensazione di malessere allo stomaco era fortissima sentiva tipo un mattone nello stomaco e nel petto e una sensazione di disgusto di nausea e lo dice a Kit perché chiaramente è addestrata a sentirsi sempre in difetto quindi gli dice che per quanto si sforzasse non riusciva a capire il senso di quella pratica e sembrava non funzionare perché aveva costantemente questo senso di disgusto e gli chiede è normale? fa parte della terapia? puoi aiutarmi a farlo andare via? e Kit le aveva risposto solamente no quello è per colpa tua quello è un problema tuo e a quanto pare Kit ha fatto cose ancora più spaventose alle donne di Doss ad una di loro per esempio aveva ordinato di comprare online tutti degli accessori che erano più strumenti di tortura tra cui letteralmente una gabbia di metallo una gabbia per animali in cui l'avrebbe chiusa se avesse disobbedito oppure quei collari che danno la scossa che si mettono ai cani per esempio per non farli abbaiare che trovo già orribile pensiero di metterlo ad un cagnetto figuriamoci ad una donna contro la sua volontà ma una delle punizioni più crudeli di cui siamo a conoscenza perché tenete conto che tantissime delle donne di Doss non hanno mai voluto parlare di quello che hanno passato quindi sono certa che tante cose non si sappiano neanche comunque una delle punizioni più crudeli è stata inflitta ad una donna di nome Daniela lei e la sua famiglia venivano dal Messico e si erano trasferiti ad Albani per Nexium dovete sapere tra l'altro che Nexium andava fortissimo in Messico e questo perché uno dei membri di alto livello era addirittura Emiliano Salinas il figlio dell'ex presidente del Messico comunque Daniela ad un certo punto del suo percorso in Doss aveva confessato a Kit di avere una cotta per un uomo che non era lui come punizione Kit l'aveva presa e chiusa in una stanza praticamente vuota l'aveva barricata lì e ogni tanto qualcuno passava e le dava da mangiare le lasciava da mangiare glielo passava dalla porta e l'avevano lasciata lì così per due anni amici e dopo un po' così all'improvviso l'avevano presa e portata oltre il confine col Messico e l'avevano lasciata lì senza però documenti né soldi ma non è mica finita qui legata a Kit e a Nexium c'è anche un'altra sparizione molto misteriosa quella di una donna di nome Christine Snyder Christine era entrata in Nexium nel 2002 per le stesse ragioni di tutti voleva migliorare la sua vita sviluppare il suo potenziale tutti descrivono Christine come una donna forte intraprendente felice e molto intelligente ma dopo solo un anno all'interno di Nexium la sua personalità pare sia cambiata radicalmente aveva iniziato a non mangiare a non dormire aveva continui attacchi di panico e tutto ciò era degenerato nel 2003 a febbraio del 2003 Christine aveva partecipato ad un corso intensivo di Nexium della durata di 16 giorni pagato la bellezza di 7000 dollari durante uno di questi seminari però Christine inizia a comportarsi in modo strano è agitata ha un crollo mentale e viene costretta ad uscire dall'aula da quel momento in poi Christine scompare l'unica cosa che verrà ritrovata sarà la sua macchina e una lettera scritta da lei la sua macchina viene ritrovata due giorni dopo a quasi 200 chilometri da dove Christine era stata vista l'ultima volta al seminario di Nexium e sulla lettera che le autorità trovano c'erano scritte le seguenti parole frequentavo un corso chiamato Executive Success Program che sarebbero appunto i corsi di Nexium che vi ho spiegato all'inizio ISP mi hanno fatto il lavaggio del cervello e il centro emotivo del mio cervello è stato ucciso barra spento sento ancora delle sensazioni all'esterno sulla mia pelle ma all'interno è come se tutti i miei organi stessero marcendo chiedo scusa alla vita non sapevo di essere già morta e su un altro foglio aveva scritto non c'è bisogno che cerchiate il mio corpo infatti amici il corpo di Christine non è mai stato ritrovato le autorità hanno supposto che si fosse tolta la vita e hanno archiviato tutto come sui video molte persone trovano bizzarro il cambio di personalità di Christine che da donna felice qual era si era tramutata in una persona perennemente agitata con tendenze suicide che l'hanno spinta alla sua tragica fine e alcuni hanno speculato che Kit potesse averle somministrato nel tempo delle sostanze che avevano forse causato questo crollo mentale e il motivo di queste speculazioni è che Kit faceva effettivamente degli esperimenti su alcuni suoi membri perché dovete sapere che Kit sosteneva che il suo metodo scientifico non solo migliorava la vita alle persone ma addirittura secondo lui curava cose come la sindrome di Tourette i disturbi ossessivi compulsivi e il cancro ora ci sono tantissimi video anche all'interno dei documentari in cui Kit e Nancy Sosman dicono con orgoglio di ufficialmente aver trovato il modo per curare la sindrome di Tourette dicono di saperlo fare ora questa cosa è stata smentita da un giudice ma viene da sé che il fatto che pensassero di poterla curare e di poter curare anche il cancro significava che dovevano aver fatto non pochi esperimenti sui loro membri esperimenti non autorizzati ci sono due donne una di nome Barbara e l'altra Pam entrambe sono state fidanzate di Kit per un periodo ed entrambe sono morte di cancro ma ci sono svariate speculazioni che sostengono che fosse stato trovato del veleno nel loro organismo cioè qualcuno somministrava loro piccolissime costanti dosi di una sostanza che aveva avvelenato lentamente il loro organismo un'altra donna di nome Christine Keffy non so come si pronuncia anche lei è stata una delle fidanzate di Kit anche lei ha avuto un cancro lei però per fortuna è sopravvissuta nel 2009 Kit ha dichiarato una cosa piuttosto strana che fa venire voglia di credere alle speculazioni di cui abbiamo parlato aveva dichiarato ho ucciso molte persone a causa delle mie convinzioni e vi chiederete come ha fatto questo essere ignobile a fare tutte queste cose e avere la reputazione intatta per così tanto tempo beh amici la risposta è i soldi Nexium aveva una montagna di soldi grazie a quelle ereditiere di cui vi ho parlato prima che con i loro miliardi sono riuscite per molti anni a tenere a bada i media e a nascondere tutto quello che c'era da nascondere ma tranquilli amici non durerà per sempre torniamo alla nostra storia a questo punto tutte queste storie sul passato di Kit su quello che succedeva davvero in DOS stavano iniziando a circolare tra i membri di Nexium e alcuni di loro avevano iniziato a lasciare la setta più che altro ovviamente i nuovi membri quelli che erano meno indottrinati perché per quelli che avevano ricevuto il lavaggio del cervello da 5-10 anni era molto più difficile ma la svolta avviene nel 2017 quando Kit decide di fare l'ennesima mostruosità alle donne di DOS ovvero marchiarle a fuoco Alison Mack un giorno era andata da India e le aveva detto che ci sarebbe stata una cerimonia a cui lei e le altre donne di DOS avrebbero dovuto partecipare e in questa cerimonia le donne dovevano fare un voto di devozione verso DOS per la vita e per farlo dovevano farsi incidere un marchio sulla pelle e all'inizio India pensava stesse parlando di un tatuaggio ma poi Alison le spiega che sarebbero state marchiate con una penna cauterizzante quando India le aveva chiesto che marchio vorreste inciderci Alison aveva risposto che si trattava di un simbolo che rappresentava gli elementi sapete l'aria l'acqua il fuoco e la terra ad effettuare la marchiatura sarebbe stata una dottoressa anche lei faceva parte delle donne di DOS di nome Danielle Roberts che però non aveva idea di come si facesse quindi in due giorni le hanno insegnato ad utilizzare questa penna cauterizzante e poi la cerimonia ha avuto inizio il tutto doveva essere ripreso e le donne che avrebbero ricevuto il marchio avrebbero dovuto prima dire una frase di consenso tipo dovevano dire ad alta voce che lo stavano facendo di loro spontanea volontà anzi che era un onore ricevere quel marchio e questo ovviamente sarebbe stato usato contro di loro quindi era l'ennesima garanzia se mai si fossero ribellate ci sarebbe stato un video che dimostrava che nessuno le aveva mai forzate a fare quella roba lì mentre la dottoressa Roberts marchiava le donne Alison e un'altra donna avevano l'incarico di tenerle dalle braccia e dalle gambe faceva tutto parte della cerimonia mi ha ricordato spaventosamente il telefilm The Handmaid's Tale e così amici una dopo l'altra sono state marchiate è stato dolorosissimo la ferita ci ha messo tantissimo tempo a guarire e il periodo di guarigione è stato ancora più doloroso della marchiatura in sé ma poco tempo dopo questa cerimonia una delle persone che aveva lasciato la setta si era fatta coraggio e aveva telefonato alla mamma di India l'attrice Catherine Oxenberg che in tutto ciò aveva sempre cercato di riavvicinarsi alla figlia di farle capire che quel posto non era sano per lei ma chiaramente non avrebbe mai immaginato le cose che davvero accadevano all'interno di Nexium questa persona aveva detto a Catherine tutto le aveva raccontato della marchiatura delle violenze della privazione del cibo e le aveva detto devi aiutare tua figlia perché se non lo fai io ho paura che la situazione degenererà presto e ho paura che faranno tutte una brutta fine e poi le dice anche una cosa molto inquietante un'altra cosa molto inquietante ovvero che il marchio che avevano inciso su India e le altre non era il simbolo degli elementi come avevano detto erano le iniziali del nome di Keith Catherine a quel punto mobilita letteralmente il mondo amici utilizza tutti i mezzi che ha a disposizione fa di tutto per convincere le autorità ad indagare su Keith e persino andata dall'FBI ma tutti le rispondevano la stessa cosa India è maggiorenne e purtroppo in America non ci sono molte leggi contro il potere coercitivo quindi sarebbe stato molto difficile dimostrare che lui stesse forzando quelle donne contro la loro volontà allora Catherine decide di sfruttare il potere dei media rilascia quante più interviste possibili va come ospite in tantissimi programmi televisivi raccontando tutto quello che sapeva contro Keith raccontando tutto quello che stava facendo a sua figlia e per questo le sono arrivate anche parecchie minacce di morte vi ricordate che vi ho detto che il figlio del presidente del Messico faceva parte di Nexium ecco erano arrivate minacce a Catherine dicendole che se avesse messo piede in Messico l'avrebbero uccisa all'istante ma Catherine non importava e comunque era un personaggio troppo noto se fosse sparita sarebbe stato un po' troppo sospettoso per Nexium quindi sapeva che non avrebbero mai fatto nulla contro di lei e la sua guerra contro Keith continua e funziona perché sempre più giornalisti si interessano al caso escono titoli di giornale shock tipo setta sfondo sessuale marchi a fuoco le sue vittime insomma era tutto pane per i denti dei giornalisti ma nonostante questo India ancora non riusciva ad aprire gli occhi non riusciva a vederci chiaramente a quel punto era stata in Nexium da sette anni era entrata all'età di diciannove a questo punto della storia ne aveva ventisei quindi le avevano fatto il lavaggio del cervello in un'età anche molto delicata India India non riusciva a credere alle cose che sua madre diceva alle cose che i giornali dicevano anzi come si permetteva a sua madre di dire davanti a tutti che lei non mangiasse o che non le rivasse più il ciclo da mesi le avevano inculcato che sua madre voleva solo limitarla che sua madre voleva solo che fosse dipendente da lei e quella nel cervello brainwashato di India era la prova che Nexium avesse ragione ma il circo mediatico aumenta quando l'attrice Sara Edmondson riesce a scappare da Nexium e decide di rilasciare un'intervista mostrando il marchio che le avevano inciso e questo articolo viene letto da milioni e milioni di persone ricondiviso non so quante volte Kit aveva i giorni contati ma dove era Kit in tutto questo vi starete chiedendo beh Kit insieme alla sua amichetta Alison Mack e ad altre persone di alto livello di Nexium erano scappati in Messico Kit si stava nascondendo in una villa super lussuosa per cui pagava 10.000 dollari a settimana rilascia anche una dichiarazione ai media scrivendo che ovviamente lui era innocente e che l'organizzazione responsabile di quei marchi a fuoco le schiave quindi insomma l'organizzazione DOS non aveva nulla a che fare con lui né con Nexium quindi lui non era responsabile Katrin Oxenberg si rivolge ad un avvocato che le dice guarda queste persone sono criminali non ci saranno abbastanza leggi contro il potere coercitivo ma sicuramente ci saranno altre leggi che hanno infranto dobbiamo solo dimostrarlo così che le autorità possano iniziare un'investigazione allora iniziano insieme a cercare e contattano tutte le persone che erano fuggite dalla setta che nel frattempo erano sempre di più mettono insieme tutte le mail i messaggi qualsiasi prova trovassero che potesse incriminare Kit e ci riescono la lista di accuse contro Kit e contro l'organizzazione era lunghissima in mezzo troviamo ricatto coercizione rapimento traffico di persone aggressione aggravata moleste violenza sessuale corruzione percosse trasporto di denaro non autorizzato negli Stati Uniti sperimentazione non autorizzata su esseri umani e la lista amici va avanti per un bel po' quindi mi fermerò qui nel frattempo come vi ho detto Kit era in Messico nascosto in questa villa ma nessuno sapeva esattamente dove ovviamente perché si stava nascondendo ma persino in quella circostanza sapete che cosa ha pensato di fare il nostro uomo divino ma soprattutto casto e puro Kit decide di convocare tutte le sue schiave quindi Alison e altre donne c'era anche un'altra attrice famosa tra queste di nome Nikki Klein che abbiamo nominato all'inizio del video quindi le aveva convocate per fare una cerimonia che consisteva non so come dirvelo senza far arrabbiare YouTube proviamo così sono sicura che capirete consisteva in un lavoro di bocca su Kit da parte di tutte queste donne insieme cioè in una situazione del genere con l'FBI che ti sta cercando con una lista di accuse lunga quanto la divina commedia tu pensi a questo meraviglioso comunque tutte le sue schiave fedeli ovviamente prendono e partono ed è proprio grazie ad una di loro che l'FBI scopre la posizione di Kit grazie tra virgolette perché non era sua intenzione l'attrice Nikki Klein ha la brillante idea di postare una foto di se stessa arrampicata su un monumento a Puerto Vallarta e grazie a quella foto l'FBI scopre l'esatta localizzazione di Kit si mettono in moto e armati fino ai denti circondano la villa e fanno irruzione e sapete dove trovano il signor Kit Ranieri l'uomo quasi santo il padrone delle schiave il padrone di Nexium lo trovano nascosto come un topolino impaurito mezzo nudo nell'armadio e finalmente lo arrestano e di conseguenza a lui arrestano anche Nancy Sosman che era quella che aveva fondato Nexium insieme a Kit sua figlia Lauren Sosman che era praticamente il braccio destro di sua madre e di Kit arrestano anche Claire Bronsman una delle ereditiere che finanziava Nexium e arrestano anche Alison Mack Alison e Indy a quel punto vivevano insieme in un appartamento a New York e dopo l'arresto di Alison Indy aveva dovuto lasciare la casa per trovarsene un'altra la madre di Alison aveva chiesto a Indy di mettere tutte le cose di sua figlia in un magazzino allora Indy l'aveva fatto ma aveva preso alcune cose alcuni effetti personali di Alison e li aveva tenuti da parte pensando che magari Alison o sua madre li volessero tra questi effetti personali India senza neanche accorgersene aveva preso anche delle chiavette usb e un giorno per puro caso aveva guardato cosa ci fosse su queste chiavette usb e con sua grande sorpresa ci aveva trovato tantissime cose che incriminavano Kit cose che finalmente le fanno aprire gli occhi c'erano registrazioni di Kit che progettava il logo da far marchiare a fuoco sulle donne di Doss c'era Kit che diceva proprio il logo deve essere l'insieme delle mie iniziali e dopo aver ascoltato quelle registrazioni India capisce capisce che sua madre aveva ragione capisce che Kit era a capo di tutto e che Doss era soltanto la realizzazione delle sue fantasie più perverse oltre questo sulle chiavette c'erano foto e-mail materiale riservato che Kit usava per ricattare altre donne e quindi India decide di consegnare tutto quel materiale alle autorità così che potesse essere usato contro Kit in tribunale Kit viene incriminato di tantissimi capi d'accusa cui traffico sessuale violenze su minori lavori forzati coercizione e molti molti altri ma ovviamente si dichiara innocente il suo processo comincia il 7 maggio del 2019 e il suo avvocato prova a difenderlo dicendo che le intenzioni di Kit erano buone cioè non era colpa sua se quelle donne si erano sentite manipolate non era colpa sua se avevano accettato di venire marchiate cioè Kit voleva solo fare del bene l'avvocato di Kit ha avuto il coraggio di paragonare le donne che avevano avuto il coraggio di denunciare Kit a delle ex mogli inviperite facendo questo paragone che trovo fuori luogo e misogino dicendo che praticamente le donne si sposano e finché tutto va bene sono felici poi invece quando non sono più contente e vogliono divorziare allora dicono che andava tutto male e cercano di rovinare l'ex marito ecco paragona questa situazione alle donne vittime di Kit e dei suoi abusi fisici mentali sessuali complimenti davvero un avvocato degno del suo cliente chiaramente la sua strategia di difesa viene asfaltata dalla quantità di testimonianze e di prove audio video e prove fisiche anche perché oltre alle spaventose violenze che Kit costantemente infliggeva alle donne della sua setta c'erano anche tutta una serie di reati che aveva commesso a livello fiscale cioè Kit Ranieri era un truffatore niente di più e il 19 luglio del 2019 dopo 5 ore di deliberazione la giuria emana il verdetto colpevole di tutte le accuse Kit viene condannato a passare 120 anni in prigione e a pagare una multa di 1.75 milioni di dollari per quanto riguarda Alison Mack anche lei viene accusata di traffico sessuale cospirazione ricatto e l'8 aprile 2019 si dichiara colpevole delle accuse di Rackett ma si dichiara innocente per quanto riguarda tutto il resto e questo è stato un po' un patteggiamento cioè Alison si è dichiarata colpevole di alcune cose per ottenere uno sconto sulla pena infatti il 30 giugno 2021 Alison Mack viene condannata a soli 3 anni di reclusione più una multa di 20.000 dollari durante il processo ovviamente vengono fuori tantissime informazioni disturbanti che fanno aprire gli occhi ulteriormente ad India per esempio scopre che Alison l'aveva fatta entrare in DOS in cambio di denaro a quanto pare Alison non era mai stata pagata da Kit infatti era praticamente finita sull'astrico e come dimostra uno scambio di mail tra i due un giorno Alison gli aveva scritto chiedendogli per favore di pagarla perché erano anni che non le arrivava un pagamento e non sapeva più come fare al che Kit le aveva risposto che l'avrebbe pagata soltanto se avesse convinto India ad entrare in DOS così da farla diventare una sua schiava se non è traffico sessuale questo comunque oltre loro ci sono ancora Nancy Sosman che viene condannata a 42 mesi di prigione più una multa di 150 mila dollari Claire Bronfman l'ereditiera viene condannata a 6 anni e 9 mesi di prigione e la figlia di Nancy Sosman Lauren viene condannata a soli 5 anni di libertà vigilata in cambio della sua collaborazione nell'incriminare Kit quindi Lauren alla fine ha fornito tantissime informazioni su Kit e ha anche testimoniato contro di lui e in cambio si è saltata la galera ma pensate che ancora oggi sotto al carcere in cui è rinchiuso Kit troviamo delle persone delle persone ancora devote a lui che ballano e ballano per lui tipo per sollevargli il morale in carcere hanno tutti degli striscioni e passano le giornate a ballare e I think maybe the first part, the first years, because you joined us after, what, five years? Yeah, I was around 25, and I, so yeah, five years. So maybe the first five years, it's the indoctrination. I mean, you cannot join Nexium, and then after six months, they tell you, you know, you have to give me collateral, and then, of course, you're not brainwashed. Enough. I said that to people. Let me tell you, that's, so that's what I mean he got greedy, because I had been primed and groomed for five, four or five years to be able to accept this type of invitation. Not a normal person walking off the street would be like, what the fuck are you talking about? I would never want that, unless they were, you know, very, very vulnerable, and they tricked them at the right time. What he started to do, and I think this was the beginning of the end, was he got greedy for a dos, and he wanted more and more women, so he was telling the other women who were recruited, go out and recruit more women. Some of them hadn't even done Nexium. So, like, some of them had done no ESP. Some of them had only done, like, six months, like you said. And for them, it was easier to break the brainwashing and to get out quicker. For me, it was much harder. So, I think the deeper the indoctrination, the more difficult it was to leave and to stay out, because what happens is the same thing with an abused woman. It takes them often seven times to leave an abusive relationship. But to leave, once you leave, you often come back. And so, many people who don't have a strong support system outside to heal will come back to their abusers. So, that's something that I, why I was so adamant in talking about Nexium and being so vocal in the media was because I wanted the people that were still in to have a chance to leave. Because maybe if I said something that resonated with them, they would go, oh, India was in as deep as me. Maybe there's something to what she's saying. But the truth is, you cannot make somebody change their mind. And the fact that I have my mother and that I have my family is like a gift from God. Because, honestly, I would not have been able to do it without them. I was so broken. And I was so in such a, now I'm going to cry. But I was at such a low, low point in my life when I came out of the cult that I didn't even know if I wanted to live because I felt so dark inside. And so, the fact that my family stayed with me, that my now husband was with me through all of these challenging times is such a gift. I mean, and a lot of people don't have that. And that's why the work that I do with my mother now with our foundation is in order to make sure that other people have the healing resources available to them. to make sure that they have somewhere to go and somewhere to heal. Because otherwise, like you said, you can fall back so easily. We want to make sure that the Catherine Oxenberg Foundation has enough resources and enough money to be able to fund therapies to heal PTSD and to make people have their lives again instead of feeling like they're trapped in the prison of their past. Because that's what PTSD feels like. It's like you're here now, but you're not here now. But your mind is not, yeah. And I still struggle with it. And I'm like, I have to be real about that. And I'm like about to come out more publicly about my own healing journey. I can barely say it because it's so personal. But I'm like ready to come out a little bit more and share about what it's like to heal after trauma. And I use all sorts of different therapies, including therapies that have to do with psychedelic-assisted therapy. Because that's been, for me, a way to get into the deeper levels of my nervous system that was also affected by the programming. Wow, that's so interesting. So I've been learning a lot. Yeah, and, you know, I saw in the documentary, like, there was this woman, like, massaging you. Like, I don't know how it's called. Yeah, she does a different technique. And I needed a lot of body work, too, because I didn't like to be touched. And so she was like a safe place for me to feel the touch of a person that I knew was safe. Yeah, and, you know, I cried so much when I watched that scene because she was, like, releasing the trauma. Oh, my God. Right now. I Lord your body work, like, énergie 않아. And I went to this woman, because she was like a role and she couldn't make the difference. And I said, you know, you know, to be like that about go, I mean, it was that beauty, you know, but you don't have to be pracworker here. But in the story, I do hope, but I know you're going to be able to explain the truth. But frankly, I have to write a heart down through the heart. So through this, I hope you are like, you know, I am going to be able to help. Grazie a tutti. I do things that are fun and I work hard because it matters to me to have my life not feel miserable. I wanted to have my life back and I wanted to have my brain back. Yeah, exactly. It's not me. This person that I'm feeling isn't me. So I was like get rid of this shit. India ad oggi ha trovato il modo di andare avanti, ha trovato il modo di trasformare la sua esperienza in qualcosa di buono, di positivo. Qualcosa che le ha insegnato una lezione di vita, qualcosa con cui lei potrà davvero aiutare gli altri ad aprire gli occhi, sensibilizzandoli sul potere coercitivo e sulla manipolazione. Esattamente come ha trasformato l'orribile marchio che le avevano inflitto in uno stupendo tatuaggio con la frase scritta in italiano tra l'altro ancora in paro. When did you decide that you were ready to talk about all of this? Because I mean it's not easy. No, it's not easy and I didn't even know what I was getting myself into when I started because I felt compelled to tell my story but not until after being out and prioritizing my own healing. And I didn't even know that it was going to be this challenging but I also knew that if I took it this route that maybe this was my way to be free. Because I thought the whole time when I was in ESP and when I was in DOS and when I was in NXIVM, whatever you want to call it, everything that they would tell me is you can't tell anybody about your experiences here. You can't tell anyone. You can't tell anyone. And so I had that beaten into me that the idea of speaking out and sharing put me into paralysis. Like I couldn't even talk. I couldn't even share what I had experienced. So my biggest fears became the road to my freedom, I thought. And I also wanted to take my name back. And my name had been put into the media. India Oxenberg, branded sex slave, sex slave of Keith Ranieri, sex slave, blah, 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 blah. And I'm like, wait a minute. That's not who I am. And this is not who I'm going to be known as for the rest of my life. So I decided that I wanted people to know who I really was. And I wanted them to get a sense of why so that they could fucking avoid getting victimized. And like, I didn't want this to happen to my sisters. I didn't want this to happen to my friends. Once I realized what had happened to me, I was like, no. And that really, that anger kind of fueled me. So it was like a lot of emotion and a lot of redemption. So I'm a very passionate person. I'm, I care a lot about things. And when I, when I know the truth, I want to fight for it. And the funny thing was I was fighting for the wrong team because I believed something that wasn't true. So now, now I know a lot more and I'm still learning every day. I'm going to battle. I have a couple of tattoos, but that one for me was my first and it covers the entire scar. And, and now I think it's beautiful. And now I look at myself in a bikini and I don't feel ashamed. And I see my tattoo. I don't even think about the scar. I just think about this was just an experience in my life. I want to ask you, what would you say to those people who think, you know, this would never happen to me? I'd say, how do you know? Because have you ever felt like you had a time in your life when you were vulnerable? Were you ever in a time of transition where you might've been influenced to do something that you might not have wanted to do? Have you ever been conned or tricked or fooled? Have you ever been stolen? Like have any of these things ever happened to you? Because I think the problem that we have is it's so easy to say to somebody, I'm not like you. I'm different than you. It's very easy to do. It's more difficult to find out how you are like somebody and to actually find a connection and go, wow, we have totally different lives, yet there's something about us that is similar. And that's beautiful. And that's what I wanted to be able to do is so that people could say, I can feel for that person. I have empathy for that person. I have compassion for that person because I see that person in myself. What advice would you give to the people that will watch this video? Like my followers, I have a huge percentage of very young people who follow my channel. That's why I like to, you know, share awareness. Swearing. No worries. I think they swear more than me and you put together. Yeah. What would you say to them? Is learning to trust your own instincts and your own gut is your superpower. Like, listen to yourself, listen to your instincts. Your body is communicating with you. It's telling you golden, golden nuggets of things that if you ignore them, you're doing yourself a disservice. So recognize when things don't feel right, recognize when they do feel right and follow those cues. When somebody is trying to tell you to do something that doesn't feel good, recognize that because it's probably not good for you. So that's kind of what I would say. And it's easy, but it does take a little bit of work to learn to listen. To listen to yourself, yeah. Listen, yeah. So that's probably what I would say. And also, yay, I love Italy. Mamma, Catherine, hanno creato una fondazione, la fondazione Oxenberg, che mira ad aiutare tutte quelle persone o famiglie che hanno subito un forte trauma o che soffrono di sindrome da stress post-traumatico. Diciamo che grazie a questa brutta esperienza India ha effettivamente trovato il suo scopo nella vita, aiutare gli altri condividendo la sua esperienza. Potete anche vedere il suo documentario, anzi la docu-serie, si chiama Seduced e la trovate su Prime Video. Mi ha anche detto che se vi fa piacere potete aggiungerla su Instagram e potete scriverle, lei sarà felice di conoscervi e di rispondere ai vostri messaggi. Ovviamente tenete presente che magari ne riceverà tanti e non riuscirà a rispondere a tutti, tenete presente che non parla italiano, quindi se le scrivete fatelo in inglese. E cosa scontata ma comunque importante, se le scrivete siate gentili per favore, siate rispettosi. Amici, guardate, ero combattuta perché su questo caso avrei voluto fare una saga stile Iris Babilonia perché ci sarebbe così tanto ancora da dire e da approfondire ma alla fine ho deciso di fare un video extra lungo, spero che non sia stato troppo confusionale, lo spero davvero perché questo caso mi ha appassionata davvero tantissimo. Quando incappo in queste storie di manipolazione estrema mi si accende un fuoco dentro che non potete capire e ci tenevo davvero tanto a spiegarvi tutto bene perché il mio pensiero è che non tutti sarebbero capaci di uccidere, ok? Io sono certa di questo e so che alcuni di voi non saranno d'accordo ma io per esempio non ne sarei mai capace. Penso che anche in una situazione estrema in cui o io uccido per difesa o muoio sarei spacciata, ma invece la manipolazione mentale amici io trovo che sia più semplice da incontrare sul nostro cammino, non so come dire è più facile che ci imbattiamo in qualcuno che voglia manipolarci piuttosto che in qualcuno che ci voglia fare a pezzettini e quindi trovo che sia super importante essere consapevoli dei mezzucci che la gente può adottare per manipolare le persone e non deve essere qualcuno che vi vuole far entrare in una setta, può essere un amico manipolatorio, può essere un fidanzato o un venditore che vuole truffarvi, qualsiasi cosa perché se siamo consapevoli possiamo scegliere e poter scegliere ci dà potere, la consapevolezza ci dà potere, ci rende più liberi. Poi io sono convinta che siamo tutti potenziali vittime di persone orribili come Kit, quando mi arrivano commenti tipo a me non potrebbe mai succedere, io automaticamente penso che a quella persona potrebbe succedere più degli altri, perché è proprio quella sicurezza che ti frega, perché sapete nessuno pensa di poter essere fregato, così come nessuno pensa di unirsi ad una setta, cioè non è che la gente che è rimasta incastrata in Nexium o in altre sette che non nomineremo hanno detto oh che bello mi unisco ad una setta prima o poi perderò milioni di euro, mi isoleranno dalla mia famiglia. No, è gente che è convinta che non sia una setta, è convinta il più delle volte che sia una cosa positiva, è gente intelligente anche perché come vi ho detto le sette hanno bisogno di gente intelligente che le aiuti a diffondere il loro verbo. La manipolazione è un processo graduale, molto molto lento e credetemi non te ne rendi conto, non te ne rendi conto il più delle volte, ripeto sto generalizzando, sicuramente ci sarà qualcuno immune alla manipolazione ma sono sicura che avete capito cosa intendo. Amici direi che per oggi basta così, la smetto di parlare, ringrazio India Oxenberg dal profondo del mio cuore per aver partecipato a questo video, è stato davvero bello conoscerla ma soprattutto ringrazio voi per aver guardato il video fino alla fine, se siete arrivati fino qui battete un colpo nei commenti come al solito e concludo dicendovi grazie, grazie per avermi sempre supportata e aiutata a costruire tutto ciò perché senza di voi io non sarei qui, detto questo ci vediamo al prossimo video, ciao!